Villa della Regina è una residenza di piacere appartenuta alla famiglia Savoia destinata alle attività di svago dei duchi e dei principi. Dal 1997 è iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO all'interno del sito seriale delle residenze Sabaude. Il committente della villa fu il principe cardinale Maurizio di Savoia. Mecenate coltissimo e abile diplomatico, il cardinale prese a modello le ville dei Colli Laziali e realizzò il complesso a partire dal 1615, costituito da giardinia l'italiana, parti boscate e pertinenze agricole, oltre alla residenza nobiliare chiamata vigna del cardinal Maurizio. La posizione dominante sulla collina, quale ideale prolungamento della città di Torino, all'epoca capitale del Ducato Sabaudo, oltre ad essere piacevolmente panoramica, era fondamentale per esibire il prestigio del casato. La simmetria che governava la composizione del complesso diede un'impronta ai giardini, rispettata anche negli interventi settecenteschi. Il viale di accesso alla villa, delimitato da platani, conduce al gran rondò del Nettuno, con la sua grande fontana circondata da statue di divinità marine. Più in alto si giunge alla corte d'onore che dà accesso alla villa, dove lo scalone Atenaglia cinge la peschiera della sirena a ridosso della facciata. Il parco si sviluppa poi verso la collina, sfruttandone la conca naturale, con terrazzamenti a demiciclo, una serie di scale e il teatro d'acque, lungo l'asse centrale che conduce fino al settecentesco padiglione del Belvedere Superiore. ai margini dell'emiciclo si ammirano il Belvedere Nord e il padiglione dell'Accademia dei Solinghi. Inizialmente concepito come sede per le conversazioni dei principi sull'arte, la musica e la politica. Alla morte del Cardinal Maurizio nel 1657, la proprietà passò alla nipote principessa Ludovica di Savoia, che commissionò un primo ampliamento della villa con le torrette laterali. La principessa apre il lungo elenco di figure femminili che negli anni furono proprietarie o frequentatrici della residenza. Nel 1692 Ludovica lasciò in eredità la villa ad Anna Maria d'Orlean, moglie del duca, poi re, Vittorio Omedeo II di Savoia. Cresciuta nelle sontuose residenze della Casa Reale francese, la principessa fece sostituire i soffitti a cassettoni in legno del piano nobile con volte in stucchi bianchi e dorati. Acquisito il titolo regio nel 1713, la residenza di Anna d'Orlean divenne la villa della regina. All'interno dell'edificio, il piano nobile ospita gli appartamenti del re e della regina, caratterizzati da una sequenza speculare di ambienti affacciati sia sulla città, sia sulla collina. Al centro della villa, negli anni 30 del Settecento, su commissione di Polissena d'Assia, Filippo Iuvarra introdusse un salone a doppia altezza, illuminato da grandi finestroni aperti sui giardini, interamente decorato con architetture illusionistiche ad opera del modenese Giuseppe Dallamano. Nei riquadri delle pareti si inseriscono i dipinti murali di Corrado Giacquinto e, sulle volte dei vestiboli affacciati verso gli esterni, il veneto Giovanni Battista Crosato dipinse straordinari giochi di puttini nei cieli, ad illustrazione delle stagioni. Sempre Iuvarra inserì, nella villa, i gabinetti privati alla china, secondo il gusto della corte per l'esotismo. Sebbene danneggiati negli anni di abbandono della villa, sono gioielli decorativi, dove si integrano varie tecniche e materiali in un caleidoscopio di colori e raffigurazioni del repertorio esotico che lascia incantati. Nella seconda metà del Settecento, la residenza ospitò ancora le reali villeggiature delle regine. In alcuni ambienti interni delle sale, del piano nobile, si apprezzano inoltre gli ultimi interventi di aggiornamento decorativo attuati nel 1811, secondo il gusto Pompeiano di quegli anni. Con l'unità d'Italia e lo spostamento della capitale da Torino a Roma, la villa, ormai inutilizzata, divenne un collegio femminile gestito dall'Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari. Dopo anni di abbandono, dopo la guerra, nel 1994, il Ministero dei Beni Culturali ha iniziato i lavori di restauro del complesso, che hanno compreso il ripristino del vigneto storico, vero elemento identitario della residenza. Dal 2011, Villa della Regina è aperta al pubblico.